Camer, ristrutturazioni d'interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Germanista, docente universitaria, traduttrice, letteraria, autrice. Per Gabriella Rovagnati, morbeniese, una vita dedicata alla cultura, di cui si fa portavoce. Negli ultimi anni Rovagnati si è cimentata maggiormente nell'attività di scrittrice. Il suo ultimo romanzo, fresco di stampa, si intitola Tentar non giova. C'è un protagonista maschile, e questo per me è un azzardo, ovviamente, essendo io donna, ho cercato di mettermi nella testa di un uomo, di un uomo che ha fatto il mestiere che ho fatto io nella vita. C'è un professore universitario che si trova a Brno, in Moravia, lui è un viennese di mezza età, si trova a Brno, in Moravia, dove si è recato in realtà per partecipare a un convegno universitario e ha un momento di debolezza e di defiance, per cui cerca di uscire dai ricordi di un grande amore di gioventù al quale è rimasto sempre fedele e finisce per accettare le profferte di una sgualdrina. Poi però non succede niente. Un libro che per certi versi ripercorre fasi salienti della sua vita. Esperienze che riguardano l'autrice da vicino. In questo romanzo, a parte che appunto c'è un uomo, ma c'è l'ambiente universitario, che io ho conosciuto molto bene, ci sono alcuni personaggi che si rifanno a persone che io ho conosciuto, ovviamente nella trasposizione letteraria non sono loro. C'è un mio lungo soggiorno a Vienna, che conosco molto bene, c'è un mio viaggio in Moravia, anche il libro no l'ho conosciuta piuttosto bene, e poi ci sono traduttori. Il titolo del volume ribalta al noto proverbio Tentar non nuoce. Io invece l'ho volutamente ribaltato dicendo Tentar non gioce, cioè tentare a un certo punto di cambiare la direzione della propria vita, non è una cosa facile e può essere estremamente deludente. Ad occuparsi della copertina del volume Maurizio Gusmeroli, videomaker e fotografo morbegnese. Mi ha dato uno spunto e così è nata questa copertina, che praticamente rappresenta una parete completamente coperta di libri, quindi fa riferimento alla vita del personaggio, che è una vita intrisa di cultura, fatta proprio di continui studi e di riferimenti culturali. E questa parete, in mezzo alla quale si apre a un certo punto una finestra, una finestra dalla quale si vede un ipocastano fiorito. Naturalmente chi leggerà il libro che invitiamo a leggere capirà poi perché, perché questo ipocastano ha una sua funzione all'interno del romanzo.